ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta questa sera portatelo a casa, non sto scherzando e allora, lo poggio qua che cosa dobbiamo dire? dobbiamo dire che io devo ringraziare innanzitutto tutti voi che siete ancora qua perché aspettate, sì mia moglie è da quant'è che ho iniziato che mi dice quaglia qua, ormai abbiamo finito, abbiamo terminato il festival di solfare anche quest'anno credo che ha avuto il suo grosso successo io sono contentissimo, felicissimo di averlo organizzato e aver avuto la collaborazione di tutte le scuole di canto aver avuto la collaborazione dei professori, dei maestri e principalmente dei genitori questi genitori che fanno tanti sacrifici affinché i sogni dei propri figli non muoiono quindi il mio applauso innanzitutto va a loro oltre alle scuole di canto che permettono di farli venire qua a sommatino a allietare le orecchie dei sommatinesi e far sì che questo festival cresce sempre di più perché vi devo ringraziare, avete portato dei veri e autentici talenti quindi vorrei chiamare uno per uno i nostri giudici qua vicino a me avete votato per un, cioè c'è la segretaria che sta facendo già gli ultimi conti quindi già sappiamo chi ha vinto il festival delle solfare con 288 voti Alice Locurto eccola qua lei ha avuto Alice Locurto 288 voti seconda classificata con 295 voti Benedetta Nicosia di Chiaramonte Gulfi eccolo qua il presidente di Proloco Giovanni Intonato sì sì e allora vince la categoria Junior con 314 voti Zelia Riggi di Calzanissetta terza classificata per la categoria Senior con 304 voti Gloria Gelsomino di Calzanissetta eccola qua ah l'ultima che ha cantato addirittura quanto si dicono i casi della vita eh e allora seconda classificata con 314 voti Melinta 40 di Favara ecco qua Melinta 40 una donna la rappresentante del del gruppo Sommatino nel Cuore bene allora la vincitrice o il vincitore del che accede alle finali di Accademia e il Talent si l'hai rotto rotto? no no eh quindi non lo pago va bene allora arriva alle finali televisive di Accademia e il Talent il Talent superando così tutte le fasi insomma di eliminatorie il vincitore o la vincitrice del perfetto io ora adesso ti faccio vedere il nome no? tu però non lo dici assolutamente perché prima devi dire quello se non lo so se corrisponde alla stessa persona però prima guardi il nome eh ok no non corrisponde non corrisponde quindi allora prima dici il tuo premio va bene questo è un premio che abbiamo insomma deciso stasera abbiamo deciso stasera allora avrai la possibilità di venire al concerto di Gianluca Grignani e conoscere Gianluca dietro le quinte avere la possibilità di incontrarlo allora vince questo premio Gloria Gelsomino grazie sì siamo all'unisono tutte e due sì che vince con 326 voti vince il settimo festival delle solfare Desi Ricotta e allora premiamo dove è questa Desi Ricotta o quest'altro i voti sono sono là eccolo qua l'applauso vostro per la nostra Desi Ricotta congratulazioni che devo dire dopo Desi Ricotta complimenti eh complimenti sei stata bravissima per te l'accesso alle finali di Accademia e il Talent superando così tutte le fasi di eliminazione quindi già farei parte del cast televisivo della prossima stagione complimenti perfetto Giovanni vieni qua due parole due parole per concludere la serata e poi saluti due parole buonanotte due parole ecco buonanotte e grazie a tutti ok Giovanni grazie da Leonardo Virgone che da domani finalmente è in verie una buonanotte a tutti e spero di ritrovarvi un altro anno di nuovo qua a vedere il festival delle solfare ciao a tutti grazie a tutti